Il Madison Square Garden allora era il tempio del pugilato, era quello che racchiudeva tutti i più bei nomi dei pugili che avevano fatto la storia e sono la storia del pugilato. Mi sembrò di entrare in un circo dell'epoca romana dove veramente le urla coprivano ogni altro rumore e addirittura i pensieri. Mi sentivo in quel momento veramente un eroe. Questo dico prima di salire sul ring e poi la storia insomma si realizzò. Un momento straordinario quello perché il giorno dopo mi trovai di fronte sulla strada mentre passeggiavo molti italiani che anzi venivano a cercarmi vicino all'albergo Labby Victoria Hotel dove abitavo in 7th Avenue per vedermi, per parlarmi. Ebbene questi mi dicevano da domani, da oggi a domani potrò andare al lavoro dicendo anche io sono italiano, sono italiano come Nino Benvenuti. Perché in quel momento naturalmente erano ancora degli emigranti. Dal momento che io avevo vinto il titolo mondiale a New York si sentivano italiani come lo erano sempre ma che avrebbero potuto dirlo ed essere riconosciuti come italiani come benvenuti. Insomma questo mi fece un onore grandissimo. Io ebbi la fortuna di essere presente alla vittoria di Nino Benvenuti nei confronti del grande Emil Griffith e da italiano che viveva nella comunità italiana di Little Italy mi sentii quasi importante come Nino. E Nino Benvenuti aveva dato a me e a tutti gli italo-americani in America un motivo di essere orgogliosi. I festeggiamenti della sera dopo il match furono straordinari. Non avevo ancora capito, saputo quello che era successo in Italia. Ma la festa è continuata fino ad oggi ancora continua perché tutti i giorni nel mio vivere, nel mio camminare per strada trovo qualcuno che mi ricorda quei momenti. Sono passati quasi 50 anni eppure c'è qualcuno che mi dice ero bambino, avevo 8 anni, avevo 6 anni. Mi ricordo mio padre che mi disse devi star sveglio ad ascoltare questa telecronaca di Paolo Valenti che diventò memorabile. Ecco e raccontandomi di questi fatti c'è qualcuno che le cade una lacrima dagli occhi perché ricorda suo padre che non c'è più. Insomma dei momenti straordinari. Io continuo a vivere quel momento, perciò il successo di quell'incontro continua ancora oggi nella storia della mia vita.